Il mancato rispetto delle regole, quali conseguenze ha in economia? L'iniziativa come Economia Come promossa da Invitalia, secondo lei quanto è valida per avvicinare il grande pubblico ai temi economici? Io credo sia utilissima, sia utilissima quando vieno per provare a parlare, non credo che iniziative come queste possano servire a creare di per sé l'educazione economica, però possono aiutare per esempio per far capire quanto l'economia sia importante, ma anche quali sono i rischi connessi per esempio a una visione tutta economica della società.